buongiorno buongiorno quanto tempo quanto qua ho perso i capelli dalla vecchiaia così la battuta brutta ce la siamo tolta subito ma no ma veramente ma quanto tempo per voi è passata solamente una settimana ovviamente perché perché sono stato furbo e ho registrato tutti i video in precedenza quindi tutti i video che avete visto in realtà li ho registrati praticamente lo stesso giorno comunque comunque come state avete passato una bella quarantena una brutta quarantena come sta andando scrivetelo nei commenti anche se non mi interessa però scrivetelo che fate engagement comunque perché siamo qui oggi perché come sempre non è che mi presenta mani vuote no se mi presento davanti a voi è perché c'ho un chiaro messaggio da darvi oggi risponderemo alla domanda che praticamente mi ha tenuto sveglio per tutto per tutta la quarantena non sono riuscito ad andarci a dormire ma finalmente ho trovato la risposta infatti la domanda era ma i pelati fino a dove si lavano la faccia ho fatto diversi test ho fatto diverse prove e alla fine ho dovuto immedesimarmi proprio nel personaggio per riuscire a capire fin dove si lavano la faccia ed effettivamente ho notato che è difficile fermarsi proprio qua quindi all'attaccatore dei capelli ma solitamente si va anche un pelo sopra questo questo è i dati i dati i dati parlano chiaro però però oggi vi voglio portare un argomento un po più frizzante un po più interessante ma non saremo da soli oggi ci faremo aiutare da un nostro fidato collaboratore siamo in live insieme al nostro intervistato benvenuto simone a barbara d'urso grazie barbara per avermi chiamato oggi spiegheremo come avviare un business quindi le tre fasi principali per avere un business che arriviamo un po tardi per spiegare cosa far durante la quarantena la quarantena è finita però se ce ne fosse un'altra siamo siamo preparati sappiamo cosa fare allora il primo punto per avviare un business a me viene in mente l'idea sì esatto trovate un'idea trovate qualcosa che vi piace nel senso se vi piace fare gli agnolotti creato un business sugli agnolotti giovanni rana ci ha fatto c'è comprato una lamborghini e quindi trovate qualcosa che vi piace e nel punto 1 l'avete fatto punto 2 punto 2 diventare esperti di quella materia prima simone mi facevi vedere che addirittura c'hai dei libri che talmente ti sono piaciuti che ne comprati 4 perché l'hai voluto leggere più volte no perché rileggere lo stesso è diverso che ricomprarselo nuovo bravo e no perché se l'hai già letto sai già come va a finire se lo ricordi se lo prendi nuovo è diverso è tutta una anche mentalmente perché la mente è stupida questo è un bug un bias cognitivo punto 3 condividere quello che state facendo cioè quindi primo dovete trovare un'idea secondo diventare bravi leggendo libri su quella cosa perché se non sapete un cazzo la gente giustamente non vi si caga se vi si caga male perché non sapete e quindi 3 condividere poi nel senso avete avuto l'idea state studiando adesso dovete divulgare no perché non è che si dice uno sta a dire poi alla fine è facile poi voglio vedere se però oppure c'è una scorciatoia tu mi insegni vestirsi bene vestirsi bene questo è fondamentale per qualsiasi business ragazzi l'occhio vuole la sua parte e quali c'è la scaletta la scaletta non meno questa è una data bill gates quindi se l'ho detto lui è una prostituta che dice all'altra non so che cazzo mettermi stasera questo era una prostituta indecisa mi posso fare una tracheotomia con la penna allora allora io devo sposare anche la videocamera la sopra tra l'altro salutiamo cioè salutiamo simone che rimane qua tanto guarda qua donna mia che bello che bello peccato che ho perso tutti i capelli peccato con i capelli stavo meglio però pazienza non si può aver tutto dalla vita già sono intelligente non poteva anche nascere bello nulla abbiamo detto tutto sì ci vediamo prossima settimana e una sera buona giornata a presto a presto